Allora, la quota di partecipazione è uguale per tutti. Ci teniamo a precisare che il pacco gara contiene una bella novità, cioè un aperitivo aperto a tutti i partecipanti che potranno consumarlo il giorno 5 marzo, cioè il giorno della gara, oppure addirittura poterlo consumare anche successivamente, oppure quando vorranno. Ma non solo, il pacco gara contiene anche un altro voucher per un ingresso presso la spa dell'hotel Villa Medici. Quindi diciamo che è un pacco gara all'altezza della situazione. Grazie. Grazie.